Con questo video impariremo a posizionare gli armadi all'interno del nostro progetto Possiamo partire da qualsiasi piano, non è importante il piano di partenza Comunque il primo armadio normalmente viene impostato di default Dunque dovremmo posizionare l'armadio principale Per impostarlo principale basta cliccare su principale Clicchiamo il punto di posizionamento, scegliamo l'angolo di rotazione Se vogliamo lasciare l'angolo di rotazione di default a zero premiamo invio Poi possiamo inserire eventualmente altri armadi anche affiancati Come in questo caso premiamo sempre invio per eliminare la rotazione E possiamo anche cambiare piano Come vedete in questo caso non è più spuntata l'icona principale Se dovessimo per qualche motivo cancellare l'armadio principale Il nuovo armadio che lo andrà a sostituire dovrà avere la caratteristica di essere principale Altrimenti poi i calcoli potrebbero non risultare corretti Bene, abbiamo posizionato gli armadi all'interno del nostro edificio E abbiamo terminato anche questa fase del progetto